Il futuro del porto industriale di Cagliari, dato il suo ruolo strategico nell'economia sarda, va salvaguardato dalle istituzioni. Per questi sindacati, Will Trasporti e CGL Filt promuovono un sit-in dei lavoratori a Roma, presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, a tutela dei lavoratori del porto industriale di Cagliari, che operano in un settore cruciale per l'economia della Sardegna. Riteniamo che le complesse problematiche concernenti il porto canale di Cagliari e il futuro delle attività di transhipment nel terminal container, i cui effetti si riverberano drammaticamente su centinaia di lavoratori e sullo sviluppo dell'economia regionale, debbano essere esaminati in un'unica cabina di regia e non secondo logiche particolaristiche e settoriali, scrivono William Zonca di Will Trasporti Sardegna e Massimiliano Atocco di Filt CGL in una comunicazione ufficiale ai ministeri competenti, ai parlamentari eletti nel Collegio Sardegna e ai sindaci della città metropolitana di Cagliari. Will Trasporti e Filt CGL chiedono inoltre una convocazione da parte del Presidente della Regione, Cristian Solinas, per conoscere, si legge nella nota, le strategie del Governo regionale in merito al rilancio del porto industriale nel suo ambito internazionale e dell'attività principale di transhipment, settore trainante per l'industria e i trasporti delle merci via mare, perché è unico collegamento diretto dalla Sardegna con il resto del mondo, attraverso il quale poter creare concrete basi per un vitale sviluppo dell'economia del territorio. Crediamo, scrivono Tocco e Zonca, che esistano validi strumenti che possono essere messi in campo per attrarre investitori, attraverso il coinvolgimento di un advisor internazionale del settore dello shipping che sia partner della Regione nell'interesse politico di rilancio del porto e quindi del territorio, la proroga del contratto di localizzazione prossimo alla scadenza, lo studio finalizzato a reperimento di ulteriori fondi propedeutici all'ammodernamento infrastrutturale, a partire da nuove gru di banchina.